Grande serata musicale a Marcord e Chiesino Zanese in occasione del Memorial Nino Trinciavelli, ideatore e primo proprietario della storica discoteca Concord. Un luogo indimenticabile per i giovani e meno giovani che fra gli anni 80 e 90 si ritrovavano nel locale di Via Vittorio Veneto per trascorrere interi pomeriggi e serate ad ascoltare buona musica e a ballare. Al Concord arrivavano da tutta la Toscana e oltre anche perché sono stati numerosissimi i gruppi e gli artisti di rilievo che sono passati da qui, da Adriano Celentano a Fred Bongusto, passando per i Pooh, i Nomadi e i Divi di Beverly Hills. E questo solo per fare qualche nome. La discoteca inaugurata nel 78, chiuse i battenti nel 2001. L'iniziativa, che ha goduto del patrocinio del comune di Chiesino Zanese, ha portato la firma di Ringo Pellegrini in arte Ringo DJ e del suo DJ Tour. Con lui c'erano anche i colleghi di console Steve Martin e Carlo Raffalli. La gente ha risposto in massa riempiendo Piazza della Libertà e Parco Pertini. Ho organizzato questa serata solo per Nino Trinciavelli perché per me è stata una seconda famiglia. Ho iniziato a lavorare con lui, ho lavorato 18 anni al Concorde con lui, alla Redal. È dieci anni che quest'anno è morto Nino Trinciavelli. Questo è il mio regalo che io faccio per lui e per la famiglia del Trinciavelli. Grazie a tutti voi.